Video Kill the Radio Star E sai cosa ti dico? Eh, vi piacerebbe Invece non è così, siamo qua ancora alla radio Dopo così tanti anni Ancora qui a rompervi le scatole Tutte le mattine A svegliarvi, a tirarvi giù dal letto E, cosa più bella, voi a permettercelo di fare Perché questa è la cosa bella Come sempre vi ringrazio per inserirci Nella vostra quotidianità Nella vostra routine mattutina Che insomma, c'è gente che non vorrebbe neanche ascoltare La propria madre, il proprio fratello Ma neanche il proprio amore, anche il giorno di San Valentino Non vorrebbe neanche parlare e invece Accedete alla radio e volete ascoltare noi Beh, ma come possiamo fare a non ringraziarvi Davvero, grazie mille a tutti gli ascoltatori Di Cristal Radio 808, mercoledì 14 febbraio 3317853 555 è il numero di Whatsapp E grazie appunto per tutti i Whatsapp arrivati fino ad adesso Allora, seconda parte di trasmissione Sapete che iniziamo sempre Magari partendo da una notizia E poi vi portiamo un ospite Qui che possa raccontarci qualcosa di meglio Qualche giorno fa è uscita questa notizia Su alcuni giornali quotidiani milanesi Il museo degli NFT di Milano chiude Fine nel cuore di Brera Di un'arte mai divenuta arte Già so che metà di voi dicono Cos'è il museo di che cosa? NFT? Ma cos'è quello per pagare con il bancomat Senza toccare? No, quello è NFC Un'altra roba L'NFT sono Non ve lo so spiegare bene neanch'io Sono dei tag Adesso comunque sapete cosa c'è? Lo chiedo al nostro ospite Il professor Lucas Siniscalco Buongiorno professore Buongiorno Buongiorno a tutti gli ascoltatori Grazie per l'invito Prima di chiedere che cos'è l'NFT Però io devo chiedere una sua specifica Perché lei è professore di estetica Ecco, molti si chiedono Ma cos'è l'estetica? L'estetica è tante cose Ma quella branca della filosofia Che si occupa della percezione Che in greco si dice E delle teorie sul bello e sull'arte Filosofia dell'arte Teoria del bello Perché c'è Il bello quindi è oggettivo? Questa è un'altra parola Questa domanda Questo in occidente ce lo chiediamo da 2500 anni E non siamo ancora arrivati però Quindi ci sono tante posizioni Sicuramente Per esempio il bello Non è automaticamente sinonimo di piacevole Ci sono Perché risponde a delle categorie specifiche Che molti filosofi Hanno riconosciuto essere appunto Delle proprietà oggettive Delle opere d'arte O anche di elementi della natura Quindi non necessariamente deve essere poi appunto piacevole Quella cosa lì L'abbiamo chiamata professore Perché appunto lei è professore di estetica È un esperto di arte Anche curato numerose mostre In questa città E quando abbiamo sentito che chiudeva un museo Un museo un po' particolare Ma parla con qualcuno che ci spieghi bene cosa sta succedendo Allora Gli NFT Per spiegarlo a chi proprio non ha idea di che cosa sia Cioè non sta che io nel museo dei quadri Non sta che io nel museo delle Sculture fatte di ceramica O le sculture fatte di plastica Non è una cosa così specifica L'NFT è un po' particolare Perché è una tecnologia Giusto? Esatto Corretto Infatti Io stesso Che non ho particolari competenze informatiche Posso limitarmi a dire Che si tratta di Certificati di autenticità digitali Che servono a garantire l'unicità Di un'opera d'arte digitale Ok L'NFT è una sigla È un acronimo Che sta per Not Fungible Token E si riferisce proprio a questa tecnologia Che è basata sulla famosa blockchain Che permette di garantire agli utenti Che il file di fatto Che contiene l'opera d'arte Che uno può acquistare Collezionare e vendere Sia unico Ok E quindi non riproducibile Ah ok Quindi non posso fare la copia di quel file Cioè voi fate le copie delle vostre immagini Le vostre foto Ti mando la copia della mia foto No Se c'è l'NFT Voi non potete Cioè Anche se ci fosse una copia Comunque non sarebbe certificata Esatto E quindi dici No ok Questo è facilmente Sarebbe interessante C'è certe opere d'arte Che insomma sappiamo essere Magari dei falsi d'autore Se ci fosse l'NFT Potremmo subito capire Quale è l'origine Quale no Esatto È molto interessante Proprio per la determinazione del valore Perché è un grande problema Dell'arte digitale Che non coincide necessariamente Con gli NFT Perché con arte digitale Possiamo definire in generale Tutte quelle opere Realizzate attraverso strumenti digitali Anche Ipad Computer Ci sono tanti programmi Di scrittura Pittura Disegno No Attraverso queste tecnologie Che però Fino all'invenzione degli NFT Erano potenzialmente Facilmente duplicabili Uno produce Un JPEG Ma chiaro Si può all'infinito Ma che è vero Ragazzi E qui dobbiamo pensare questo Non è che l'arte sia solo quella Che avete in mente voi Il quadro Da attaccare alla parete O la scultura Da tenere nell'angolo Del vostro immenso salotto In quella di City Life No C'è tanto anche altro Tra cui appunto L'arte digitale Qui poi si apre tutto un mondo Però a quel punto Chi sono gli artisti Chi la può fare Chi non è arte Cosa è arte anche No Insomma Sono domande complicate A cui Io Comunque cercherò Di dare una risposta Insieme appunto Al professor Siniscalco Non prima però Di ascoltare Un bel brano Che so che Apprezzato I Foo Fighters vanno bene Professore Vanno benissimo Oh bene 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 Allora se il professor di estetica Dice che i Foo Fighters vanno bene Non possiamo che ascoltarli Allora Foo Fighters Con The Glass Qui a Good Morning Milano Crystal Radio Avanti Foo Fighters Foo Fighters Foo Fighters The Glass Sempre qui con il professor Siniscalco Allora parlare di arte Parlare Prendiamo spunto Dalla chiusura Del museo Dynamic Art Museum NFT Di Milano Per capire un po' Questo fenomeno Quando dicevamo appunto L'NFT Sembrava la risoluzione A tutti i mali del mondo Un museo Sembrava dire Cavolo Potrebbe essere La fine di tutti i musei E invece il primo museo Che è finito E' stato lui Adesso non ci entriamo Nelle questioni finanziarie Ma più che altro Ci entriamo Nelle questioni Un po' di pubblico E di risposta del pubblico E di come è stato concepito Anche l'idea Di concretizzare Una cosa Che come l'NFT Non è poi così concreta Sì Chiaramente Questa chiusura È stato un simbolo Molto potente All'interno del dibattito Se ne parla tanto Nel vostro ambiente Abbastanza Perché Diciamo L'apertura Di questo museo Aveva fatto molto scalpore Proprio perché Queste opere d'arte Che nascono Per essere prodotte Vivere Nel digitale Diventavano qualcosa di reale Da un punto di vista Proprio materiale Nel senso che Si tratta di un museo fisico Dove uno Entra E vede le opere Che vengono riprodotte Attraverso degli schermi Appesi Come se fossero delle tele Essenzialmente Quindi C'è quest'idea In qualche modo Di affiancamento Dell'arte Tradizionale Cioè Dell'arte digitale Quella tradizionale E una sorta Di concretizzazione Di Materializzazione Di questo tipo Di arte Il museo Vedeva tantissimi artisti Continuare anche A produrre opere Nel senso che Erano sempre Aggiornate queste opere Cosa che magari Un museo tradizionale Non può fare così facilmente Ma anche questo Non li ha salvati Dalla fine Si Ci sono tante Ragioni Diciamo Al di là Appunto Di una situazione Economica Specifica Esatto Per cui Gli NFT Vivono Attualmente Un momento Di crisi Anche se La tecnologia Rimane Estremamente Profittevole E molto interessante Per i possibili Usi Che se ne possono fare Sicuramente C'è stato Dopo un iniziale Dopo un iniziale Fascinazione Del pubblico Che chiaramente Di fronte a un prodotto Così nuovo È rimasto molto colpito Ci sono stati Una serie di fenomeni Complessi Un po' Contraddittori Il valore Ad alcune aste Di questi In effetti Ha raggiunto Delle quotazioni Spaventose E questo Ha Indotto Una riflessione A fronte Di artisti Che per tutta la carriera Lavorano Mettendoci sudore Sangue Tutta la giornata Con una formazione Complessa Vedendo Magari opere Quotate Alcune migliaia di euro Ecco Vedere Questi lavori Realizzati Talvolta Persino nemmeno Dall'artista Nel senso che L'artista Dall'idea Poi serve Una persona Con competenze Digitali Che la realizza Qui infatti Nasce una domanda Chi è l'artista In quel caso Chi ha l'idea Chi lo realizza Non esiste più Il concetto di artista Che fa Direttamente Con questa domanda Secondo me Tocchi un punto Rilevante Che riguarda Poi un po' L'essenza dell'arte Gli NFT Da questo punto di vista Si inseriscono In una visione Dell'arte Che è nata Nel novecento Essenzialmente Che valorizza Soprattutto La dimensione Concettuale Un po' Come per fare Un esempio Celebre Della storia Dell'arte L'orinatoio Di Duchamp Che è un Readymade Un oggetto Che fondamentalmente Era un orinatoio Che collocato In un museo Viene definito Fontana Aveva fatto anche Credo uno scolatoio Di bottiglie O qualcosa del genere Anche vero Giusto Ecco lì Qual è il valore artistico Non la produzione tecnica Evidentemente Che non c'è Ma è il concetto Che nel caso di Duchamp Che è stato geniale Perché il primo A aver ideato Questo tipo di arte Era legato Alla capacità Dell'artista Di trasfigurare Di trasformare L'oggetto comune In grande capolavoro Come un po' La merda D'artista Se riesco Un orinatoio Riesco a diventare Un'opera d'arte Ecco la grandezza Dell'artista In un certo senso Ecco cosa può fare Un artista Sì esatto E questa idea Che il concetto In qualche modo Sia superiore Rispetto Alla realizzazione Materiale In una forma Totalmente diversa Però secondo me Riemerge Negli NFT Tanto che ci sono Molti artisti Che come dire Dichiarano Senza problemi Che loro si limitano A fornire appunto Un concept E questo viene Trasformato in arte Addirittura alcuni Questa è un'altra tendenza Ancora più recente Hanno iniziato a Realizzare Delle copie NFT Di loro opere Materiali Questo è anche interessante E questo è molto interessante Perché siamo Una fruizione Un po' come il libro E l'ebook Diventerebbe Un certo senso Questa però Allargherebbe A una fruizione Duplice Delle proprie opere D'arte Cioè quindi È un utilizzo Uno fa una scultura Che è disponibile In materiali Ferro Piuttosto che marmo Eccetera Chiaramente Che ha dei problemi Anche di trasporto Di collocazione E poi Ne produce una copia digitale Che potrebbe essere Poi un ologramma Volendo un giorno No? E quindi magari Pensare di fare Una Dei demonstri di opere Che non potremmo Mai trasportare Magari perché no Metterle così Ecco Noi Rischiamo di Chiudere l'NFT Solo nell'idea Della tecnologia Cioè è una tecnologia Come fosse un mp3 Per ascoltare la musica Mi stai dicendo Un po' quindi Che non è solo quello Apre scenari possibili Invece Esatto Quello sicuramente Perché Permette Una fruizione Dell'arte Molto ampia E infatti Nasce proprio Da un'idea Di democratizzazione Dell'arte Di diffusione Pervasiva Ma l'NFT Nasce subito Legato al mondo Dell'arte O arriva da un altro mondo E poi è stato Preso dal mondo Dell'arte Nasce Con queste tecnologie Appunto Blockchain Eccetera Ed è l'applicazione Quindi quasi subito L'arte l'ha applicato Immediatamente Appena visto che c'era Questa tecnologia E ha detto Ci piace La prendiamo Sì Adesso Più o meno Il concetto è quello Sappiamo che poi Può essere utilizzato Anche per Certificare qualunque cosa Non solo opere d'arte Anche oggetti che hanno a che fare Con altri Con altri sistemi Spesso si parla di crypto art Ad esempio In riferimento specifico all'arte Che usa NFT La cosa interessante Che hai detto prima Che in realtà però Ad esempio Non è che va poi così tanto A ribaltare le regole Dell'arte Perché appunto Duchamp Il concetto c'era già all'epoca E' cambiato solo l'oggetto finale Che poi si va ad esporre No? Sì Esatto Di contro quel processo Di cui parlavo Di democratizzazione dell'arte Sembra essere un po' fallito Perlomeno E' contraddittorio Se sia riuscito Proprio anche per i valori Che queste opere hanno raggiunto In particolare È celebre il caso Che ha reso un po' Gli NFT Che prima erano una realtà Più di nicchia Un po' da Da nerd Del mondo digitale Celebre in tutto il mondo È stata La vendita all'asta Di quest'opera Di quest'artista Che si chiama Bipel Il suo pseudonimo Che ha realizzato quest'opera Intitolata Every Days The First 5.000 Days Cioè i primi 5.000 giorni Che è una sorta di Raccolta digitale Di Tantissime opere Digitali Che lui ha realizzato In 5.000 giorni Appunto E che Vogliono Proprio concettualmente Rappresentare la quotidianità La vita dell'artista Quest'opera Che non aveva base d'asta È stata venduta A 69 milioni Di dollari E ha raggiunto La terza quotazione Più alta Di un artista vivente Nella storia dell'arte E questo ha Creato Un grosso dibattito E beh immagino Immagino Arriva così Prerrompente La nuova tecnologia E cambia così Le regole del gioco Andiamo avanti Con un po' di musica Adesso è il momento Di Dito nella piaga Insieme al rettore Con Chimica Sempre qui alle 8.25 Su Crystal Radio Good Morning Milano A fra poco E beati gli ultimi Diceva qualcuno In questo caso Parliamo dell'ultimo Che è arrivato a Sanremo E si Raffredde Palma Con la sua canzone Appunto Presentata a Sanremo Che è arrivata ultima Ma ripeto Come sempre Quando presenti 30 artisti Diciamo che dal 10 in giù Sono tutti ultimi Oppure sono tutti decimi Cioè nel senso Non è che Lì Stiamo parlando di arte Parliamo appunto Prendiamo spunto Dalla chiusura Del museo Degli NFT Chiuso In Brera Stiamo parlando un po' Di tutto quello Che può voler dire arte Io infatti Anche con gli NFT Ma non solo Ma anche con l'arte concettuale Arrivo a Fammi la domanda Che forse tutti Spesso ti fanno Ma a questo punto Quindi Chi può considerarsi un artista Cioè chiunque Può considerarsi un artista Ormai nel 2024 Questa è un'altra domandona Perché ovviamente Ci sono Interpretazioni più varie Filosofia Quindi tu le domande Non mi rispondi Cioè tu le fai Ma non rispondi E così Professore si discalca Mi scusi Mi scusi Usiamo fin da Socrate Per evitare Di dare risposte Efficaci C'è una frase Famosissima Di un grande filosofo Dino Formaggio Che diceva Arte È ciò che definiamo arte Che è un circolo Ermeneutico Divertente Furbo Proprio per Segnalare Che forse Questa era La sua ipotesi Da un certo punto di vista È proprio La pratica artistica Definire ciò che è arte Cioè quando Come dire Una comunità Un gruppo Sociale Culturale Riconosce un fenomeno Un fenomeno come arte Lì Come dire Va Etichettato come tale Ma ovviamente ci sono Molte altre interpretazioni Il riconoscimento degli altri Tu non puoi dirti artista Se non sono gli altri Conoscerti In un certo senso In un certo senso Sì Poi Io ma Questa Diciamo la mia Personale prospettiva Ritengo che In continuità Con La tradizione Europea Di Di riflessione Su questi temi Che l'arte Abbia bisogno Comunque di Una centralità Della dimensione Sensibile L'arte Trasmette Conoscenza Comunica Contenuti Valori Emozioni Attraverso L'utilizzo Da parte Dello spettatore Dei Cinque sensi E quindi Sebbene Sia fondamentale Che un'opera d'arte Incarni Un'idea Non può essere Ecco Un puro concetto Altrimenti Si rientra Nell'ambito Che io amo molto Della filosofia Che si serve appunto Di elementi Puramente Concettuali L'arte Ha bisogno Di materia Di una presenza Fisica In una certa misura Che può essere Anche digitale Ma come dire Deve interpellare I sensi L'esperienza E deve essere capace Di comunicare Non basta un'idea Come diceva Gab Come era un'idea Un concetto Un'idea Finché resta un'idea E' soltanto Un'astrazione Diceva Gab Se potessi mangiare Un'idea Avrei fatto una rivoluzione Quindi non è solo quello Poi c'è tutta la dimensione Tecnica Realizzativa L'arte In Grecia Era indissociabile Dall'artigianato Ah giusto Se non sapevi scolpire Il marmo O quello che era Non potevi Che quello è parte Della formazione Delle competenze Dell'artista Ho detto un errore Non so Ci usava il marmo Nella inglese C'è una meditazione Che come dire Che l'artista fa Mentre lavora Alla materia E quindi L'idea che L'elaborazione Di un concetto Possa sostituire L'arte È Perché succede scomplicato Adesso Ma è che C'è un punto Si ha l'idea Si ha il concetto Poi l'arte Il pezzo d'arte Viene creato Da qualcun altro Se non direttamente Magari a volte Anche da delle stampanti 3D Ormai Anche questo Immagino Giusto Sì Anche queste Sono molto utilizzate Anche lì Dipende Poi Dal tipo Di lavoro Che uno fa Nel senso che Ci sono alcuni artisti Anche molto interessanti Che magari Partono da lì Quindi realizzano Un prodotto In quel modo Ma poi lo Lavorano ulteriormente E alcuni E anche questo Interessante Fanno loro L'opera Quindi acquisiscono Le competenze Diciamo Di tecnico Digitali E Chiaro che è problematico A mio avviso Sempre Parere di chi parla Quando l'artista È un semplice Ideatore E quando L'artista Ha una grande Potenzialità Economica Chiaramente Incredibilmente Facilitato Nella realizzazione Viene un'idea Comunica Il team E il team Lo fa Tira fuori L'opera Infatti Diventa più complicato Poi scendere Chi è l'artista E chi La realizzazione Quindi è complicato Sicuramente Quello che non deve fare L'arte È annoiarvi Perché questo È fondamentale Perché dico questo Perché adesso invece Andiamo con una canzone Che parla di noia Ma non ci ha annoiato Anzi L'ha portata L'artista Di questa canzone Al successo Nell'ultimo festival Di Sanremo Sto parlando di Angelina Mango Con La noia Total Angelina Mango La noia È totale Era quello che si era detto Quando sono usciti gli NFT Dicendo ragazzi Ragazzi Totale Abbiamo trovato La nuova Nuova dimensione Dell'arte E invece dopo due anni Il museo chiude Ce ne faremo la ragione Come dire No Professor Siscarco Sì Quello Anche che Penso abbia distolto Molti da questo mondo È legato A questo processo Di estrema finanziarizzazione Di questo mondo Com'era la storia Della figurina Com'è che Cosa è successo Con la figurina famosa Una figurina Milioni di euro Poi una figurina Com'è che era Sì Penso ti riferisci A quella Come dire Rappresentazione Di una scena Dell'NBA Sì Che Era stata venduta A una cifra Assurda E di fatto Non era Era una sorta Di foto Di un momento Di gioco Quindi Non era una cosa fatta apposto Non era una cosa Prendo Kobe Bryant Di la situazione Lo metto lì Gli faccio una foto posata Anche in campo Sicuramente non era una foto D'artista Non era una foto d'artista Cioè nel senso Uno scatto Qualsiasi Che avrei potuto fare io Con il mio iPhone Da bordo campo Però diciamo Era stata Certificata E Inserita in un contesto Per cui Era diventato un po' Un emblema Della NBA Ancora una volta Il contesto Infatti Cioè quello che rende O non rende Qualcuno Qualcuno Arte Io ho una domanda Che puoi capire Se ci sono delle regole Nell'arte E se queste Sono sempre quelle O se sono state cambiate Nel tempo Nel tempo Sono state Stravolte Stravolte In ogni In ogni contesto In ogni Diciamo Epoca Sicuramente Potremmo dire Che C'è un canone Proprio Semplificando Ma c'è un grosso Grande canone Occidentale Che nasce A partire dalla Grecia Si sviluppa Tra tante trasformazioni Sino alla modernità Che è basato Comunque su dei parametri Di armonia Simmetria Su una serie di regole Di principi anche formali Che poi vengono Messi fortemente In discussione Dall'arte moderna Nell'ottocento L'impressionismo Ad esempio E poi in maniera radicale Dalle vanguardie Del novecento Quindi Diciamo Con futurismo Cubismo Poi Dadaismo L'arte viene Stravolta E questo Sia negli esiti Formali Che concettualmente Ecco Viene sempre stravolta E non torna mai Sui suoi passi In un certo senso Non so come dire La moda spesso lo fa No? Cioè Noi vediamo I ragazzini adesso Vengono in giro vestiti Come amici degli anni 80 Praticamente Più o meno Tante 90 Ci sono delle Ondate Di ritorno Però essendo Secondo me In un contesto nuovo Questo è interessante Anzi sono sempre Arricchite Dalla consapevolezza Quindi Ad esempio La capacità Di dipingere O disegnare Secondo quegli schemi Tradizionali Di cui parlavo Tuttora viene Spesso valorizzata Nell'accademia E si insegna a farlo Però Considerata Come dire Una base Che Solitamente Viene poi Stravolta Riletta Dall'artista Anche se Negli ultimi anni C'è stato Perlomeno in Italia Un certo ritorno Ad esempio Al figurativo Rispetto All'astratto Che è stato A lungo dominante Negli ultimi decenni Chiarissimo Allora Professor Siniscalco Siamo arrivati alla fine Io devo ringraziarla Abbiamo capito Secondo me Miglio Che cos'è Tutto questo mondo Ma soprattutto Come l'arte In realtà Abbia tante facce No Insomma È anche sbagliato Pensare che Una cosa lo sia L'altra No Mi sembra a questo punto Che il critico Deve andare un po' Oltre Così o cosà È un mondo complesso È anche Direi un po' Un agone Dove si scontrano Diverse sensibilità Prospettive E una caratteristica Dell'arte contemporanea È proprio Il pluralismo Purtroppo O per fortuna Questo dipende Dai punti di vista Probabilmente Non ci sarà Uno stile Del contemporaneo Come c'è stato Invece Uno stile Romanico Gotico Barocco Una unità Formale Espressiva Che caratterizza Un'epoca Noi viviamo oggi Proprio Nell'epoca del pluralismo Della frammentazione Del dialogo E scontro Fra Oriente e Occidente Fra arte tradizionale E arte Futuribile E vedremo Poi se da questo Coacervo Nascerà Una dimensione Più unitaria Se vogliamo Iniziare A capirne di più Come possiamo fare Quale può essere la strada Ci faccia un po' Da Google Maps Dell'arte Allora Rispetto Al contemporaneo Penso Incentrarmi su quello Perché Di questo che abbiamo Soprattutto parlato Io consiglio Anche se È un po' Impegnativo Comunque Un minimo Di formazione Nel senso che Anche autoformazione Però Significa Leggersi Qualcosa Perché Il gusto Va educato E noi Nella Nel nostro sistema Educativo Siamo Più abituati A essere formati A un gusto classico Quindi Poi dipende Da che scuole si fanno Però qualcosa Di arte antica Di arte Rinascimentale Tutti L'abbiamo Studiato Visto Ci hanno portato In qualche museo Quella lì la capiamo Un po' meglio O comunque la digeriamo Meglio perché Ce l'hanno un po' Insegnata Comunque Ce la continuano a far vedere Ce la raccontano Quell'altra Facciamo più difficile Diggerirla perché Non sappiamo cos'è Sì Chiaro che Se si entra in un museo Di arte contemporanea Senza alcun elemento Di contesto Quest'arte Che già a volte A mio avviso Pecca un po' Di quella Incomunicabilità Diventa totalmente Incomprensibile Invece Calandola Nel contesto Storico Nelle sue funzioni Ci si può avvicinare Con maggiore Consapevolezza Perfetto Allora Grazie mille Di essere stato qui con noi Se vogliamo seguire Un po' Quello che fa So che poi scrive anche Libri Ogni tanto Insomma Ci sono dei profili Che possiamo seguire Del blog Dei siti Non lo so Ho diciamo In forma più divulgativa Facebook Metto tante cose Ah ok Il mio profilo personale Poi un profilo su Accademia.edu Che è un sito un po' più Per le pubblicazioni scientifiche Così a me non date leggere Le cose scritte bene Fatte bene Non con le mie domande Inutili A interrompere Il professor Siniscarco Professor Luca Siniscarco Grazie mille Stai qui con noi Grazie a voi per l'invito E per questo dialogo Molto interessante E divertente Grazie mille ancora Andiamo con un po' di musica Allora poi Il professor può dire quello che vuole Però Io c'è dell'arte Che riconosco Universale Come la prossima Canzone Un giro di chitarra Uno swing Da Sultani Perché loro sono i Dire Straits Con Sultans of Swing Alle 8.47 Qui su Cristal Radio Good morning Milano Allora poi Allora poi Allora poi